Onesto, sincero, schietto, come sempre ad altronde, Danilo Ruffini. Il tecnico del Biceglie ha commentato così l'1-1 del Giovanni Paolo II nei retini che hanno firmato l'aggancio in pieno recupero del derby. C'è l'amarezza per come è avvenuto il pareggio, però io penso che la partita sia una partita da pareggio, perché il Nardò comunque ha premuto, veniva da tre sconfitte, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo fino alla fine, hanno provato a riequilibrare una partita che noi avevamo sbloccato, avevamo anche amministrato abbastanza bene, cercando di ricolpire in contropiede, abbiamo avuto anche due o tre occasioni, però nel primo tempo il nostro portiere ha fatto due o tre interventi, quindi penso che alla fine, ripeto, è venuto nel momento più sbagliato per noi, però non possiamo ricominare niente, perché è un pareggio, ripeto, secondo me giusto contro una squadra forte. Nonostante il Beffardo, autogol di Lorusso il Biceglia può vantare ancora la miglior difesa del Girone H dopo cinque giornate, e al Giovanni Paolo II ha trovato con Leonetti finalmente la prima retesuazione della stagione, Nerazzurri che però hanno sempre l'attacco meno prolifico delle venti del raggruppamento, insieme a Mariglianese e Brindisi. Sono contento che si sia sbloccato uno dei nostri attaccanti, Savino e Leonetti, però nel giorno in cui si sono sbloccati abbiamo subito un gol, quindi rimane comunque il fatto di aver realizzato due reti e di averne subito due, però, ripeto, è una squadra che sta facendo bene su tutti i campi, avevamo detto di promesso di giocarcela con tutti, finora è sempre stato così, e quindi proseguiamo su questa strada, recuperiamo un po' di energia, perché, ripeto, queste tre partite si sono fatte sentire, nonostante abbia alternato parecchi calciatori. Da un trittico concluso domenica scorsa a Nardò ad un altro che partirà domenica prossima, e sarà un trittico estremamente complicato per il Biceglie. I Nerazzurri torneranno tra quattro giorni a giocare al Ventura e sfideranno nel derby a Polo Lucano in Lavello, poi altra sfida molto complicata, la trasferta di Cerignola di mercoledì prossimo, e infine la gara a Casalinga domenica 24 contro la Mariglianese sulla carta all'abbinamento più agevole dei tre. Ruffini intanto dovrà fare i conti con l'infortunio del difensore Daniele Marino per i prossimi appuntamenti, sarà a disposizione già per la partita con il Lavello, invece Giacomo Ligorio, rinforzo per il reparto arretrato, ufficializzato nella giornata di ieri, ha vinto due campionati di serie di Compicero e Lucchese, e arriva proprio dal club Lucano.